Tragico incidente in via Maccagna a Trento. Invade la corsia e si scontra frontalmente con un autobus. L'uomo alla guida dell'auto è deceduto. Il candidato sindaco Baraccetti attacca il comune di Trento per i dati sulla sicurezza, che però si riferiscono alla provincia. Con la giunta Fugatti perse 24 posizioni. Coronavirus e allarme braccianti anche in Trentino. Barbacovi della Coldiretti stanno arrivando disdette da lavoratori stranieri. Siamo spaventati dalla situazione. Serata di follia a Trento Nord. Una GP rompe a velocità altissima del piazzale di Trentino Trasporti e urta un lavoratore. Ancora sul coronavirus. Lunedì riaprono scuole e università, kit igienizzante negli istituti scolastici e nuove regole anche per autobus e treni. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF-ACLI. CAF-ACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199-199-730